Musica Salerno Monsignor Bellandi si presenta ai fedeli attraverso i microfoni di Radio Alfa. Salla Consilina, ordinanza sindacale per l'abbattimento di otto suini da allevamento privato, capi privi delle certificazioni sanitarie e di provenienza. Servizio 118 Padula Montesano, c'è il bando dell'ASL Salerno. Teggiano, la Fondazione Montepruno restituisce il campo da gioco Marco Fusco alla comunità di San Marco. Torna la rassegna estate a Monte San Giacomo, si parte questa sera. Buonasera e bentrovati all'ATG di Uno News. Monsignor Andrea Bellandi, nuovo vescovo della diocesi di Salerno Campagna Cerno, si è presentato alla comunità dei fedeli in maniera simpatica e divertente e lo ha fatto intervenendo a sorpresa a Radio Alfa. Vediamo. Sorpresa ieri a Radio Alfa quando Monsignor Andrea Bellandi, neovescovo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, ha telefonato in diretta per mettersi in contatto con l'emittente radiofonica che in quel momento stava trasmettendo un'intervista di Don Biagio Napoletano per alcune anticipazioni sulla manifestazione in programma sabato per la cerimonia di ingresso nella diocesi di Monsignor Bellandi. Impegnato in un giro della provincia di Salerno, il nuovo vescovo ha voluto contattare direttamente la radio e presentarsi così alla sua nuova comunità. Parole semplici e molto gioviali che hanno così subito fatto comprendere il carattere aperto e disponibile del nuovo vescovo della diocesi di Salerno e rispondendo in maniera allegra e disponibile alle domande dei giornalisti. Ha parlato della città, del paesaggio, del suo arrivo e di calcio sulla base dei colori sociali. Monsignor Andrea Bellandi ai microfoni di Ersilia Giglio e Lorenzo Peluso ha parlato del suo impegno verso la comunità della diocesi e di quelli che saranno i primari interessi nel suo ruolo di guida toccando anche il tema delle vocazioni in un colloquio molto allegro. Sono molto contento e ringrazio già in anticipo di questo calore che sto sperimentando e vedendosi. Certamente è un affetto verso di me che mi inorgoglisce di cui appunto sono grato anche ai miei amici fiorentini ma credo che venire a Salerno non sia stato un grande sacrificio che abbiano abbinato l'occasione anche per farsi un po' di giorni di mare. Io un po' l'avete già detto voi, dell'interesse verso i giovani, verso la famiglia e verso anche i sacerdoti, particolarmente i sacerdoti giovani. Poi mi sento molto sulla linea di quella apertura dialogica che Papa Francesco sta dando alla Chiesa e quindi cercherò di seguire il suo magistero e di imparare un po' da lui la sua apertura e il suo volere dialogare con tutti e comunicare la gioia del Vangelo. Voltiamo pagina, c'è la cronaca. Ieri una brutta lite tra due minorenni a Polla. Un sedicenne di Sant'Arsenio è stato accoltellato e ferito all'orecchio per mano di un suo coetaneo di Polla. L'aggressore è stato prontamente bloccato dai carabinieri della stazione locale e la vittima trasferita all'ospedale di Polla, colpito in modo lieve. La lite nei pressi di piazza Antonio Forte sarebbe avvenuta per futili motivi. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Provenienza incerta per otto suini di proprietà di un allevamento a Sala Consilina. Dal sindaco di Sala Consilina arriva l'ordinanza di abbattimento e distruzione. I dettagli. Otto suini da abbattere per chi è non sicuri e di provenienza incerta. Arriva l'ordinanza del sindaco Francesco Cavallone. Il comune di Sala Consilina attiva verifiche sugli allevamenti locali per accertare la salubrità delle carni e la salute degli animali destinati poi all'alimentazione. Nei giorni scorsi il servizio veterinario dell'Asra di Salerno ed in particolare il Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Operativa Veterinaria aveva presentato un documento all'amministrazione comunale per richiedere di emettere ordinanza sindacale per l'abbattimento e la distruzione di otto suini che a seguito dei controlli effettuati presso un allevatore locale erano risultati non sicuri. I sanitari infatti a seguito dei controlli effettuati martedì scorso coadiuvati dai carabinieri forestali del comando stazione di Padula avevano constatato che i suini erano privi di certificazione sanitaria da cui si poteva anche vincere la provenienza degli stessi animali. Ciò quindi ha portato i sanitari e i militari a disporre un provvedimento cautelativo di sequestro degli otto suini in attesa dell'emissione da parte del Comune di Sala Consigna dell'Ordine di Abbattimento dei Capi Ordine che è arrivato già nella giornata di ieri e immediatamente pubblicato sul sito del Comune all'allevatore l'onere di provvedere all'esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e distruzione dei capi che dovrà avvenire entro 72 ore dalla notifica del provvedimento stesso con spese a carico dell'allevatore. Si intensificano quindi i controlli sugli allevamenti a sala consigna, garanzia e tutela della salute della comunità. I controlli infatti sono necessari al fine di conoscere l'esatta provenienza delle carni ed anche per accertare che gli allevatori del posto siano ligi nei controlli sugli animali per la garanzia della qualità e della salubrità degli alimenti. Peraltro dopo i recenti casi di individuazione di un capo bovino risultante affetto da patologia tumorale la garanzia e la verifica sulle carni diventa elemento indispensabile e in cui i consumatori riservano grande fiducia. Cambiamo argomento. L'ASL Salerno ha bandito una manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione della postazione 118 Padula Montesano. Vediamo il servizio. Il servizio del 118 presso la postazione di Padula Montesano sarà coperto. L'ASL di Salerno ha bandito una manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione a rotazione di tre mesi in convenzione ad associazioni di volontariato e croce rossa italiana. Visto, si legge nell'avviso pubblico, il ritiro della pubblica assistenza che aveva in affido tale postazione. Una situazione che qualche giorno fa aveva creato imbarazzo tra Padula e Sanza. I piedi del Cervati all'improvviso si erano ritrovati senza ambulanza a causa della riorganizzazione del primo soccorso nell'area sud del Vallo di Viano. Gli autisti delle ambulanze del 118 di Padula non ricevevano più i rimborsi e quindi la postazione era rimasta sguarnita. La centrale operativa aveva quindi deciso di spostare un'ambulanza momentaneamente da Sanza a Padula per tamponare la situazione. Il comune di Sanza non poteva permettere l'interruzione del servizio proprio nel periodo estivo e quindi il sindaco Vittorio Esposito è riuscito in meno di 24 ore ad ottenere ripristino dello status quo. Il tutto è dovuto al congelamento del bando. Arriva ora la pubblicazione della manifestazione di interesse da parte dell'ASL per garantire il servizio nell'ambito dell'emergenza urgenza. La postazione di Padula sarà quindi assegnata ad una nuova associazione perché è fondamentale che l'attività di soccorso sia garantita e mantenuta sempre attiva. Il gruppo Salesi interviene in merito alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico a Sala Consilina nel periodo estivo, un tema che parte dalla recente elevazione di una multa per l'associazione Eventi Positivi. Il gruppo Salesi interviene nuovamente sulla gestione amministrativa partendo da una multa elevata ai danni dell'associazione Eventi Positivi che avrebbe installato fioriere realizzate con materiale riciclato su alcuni palazzi senza le previste autorizzazioni. Da qui il nuovo intervento del gruppo capeggiato da Domenico Cartolano, secondo cui tutte le iniziative volte ad abbellire gli spazi pubblici dovrebbero essere condivise e non sanzionate. Nella nota, che si apre proprio con la questione legata alla multa elevata ai danni dell'associazione, dal gruppo Salesi spiegano che l'iniziativa era nata con la volontà di contribuire e rendere più bello agli occhi dei cittadini Corso Vittorio Emanuele. Si era quindi pensato di realizzare fioriere riciclando in maniera creativa pneumatici difettosi. Gli agenti della Polizia Municipale, durante le verifiche, accertata l'assenza di autorizzazioni, hanno provveduto alla rimozione delle fioriere elevando un verbale a eventi positivi. Da qui la nota del gruppo consigliare di minoranza, che oltre a chiedere che le iniziative atte al miglioramento e alla socializzazione vengano incentivate, chiede anche all'amministrazione comunale di modificare il regolamento sul pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, TOSAP, prevedendo l'esenzione nel periodo estivo. Le attività di ristorazione ricettizia e di somministrazione di bevande, scrivono dal gruppo Salesi, presenti sul territorio, dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione del pagamento della TOSAP, almeno nel periodo estivo, dal mese di maggio ad ottobre e comunque nel periodo delle festività natalizie. Ciò spiegano in ragione del fatto che l'incremento di attività nel periodo estivo va incontro alla finalità di favorire l'insediamento di nuove attività e soprattutto il potenziamento di quelle esistenti. Domani, venerdì 5 luglio alle 10.30, presso la caserma Pezzuto Arena, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, avrà luogo una conferenza stampa nel corso della quale il Comandante Provinciale Carabinieri e il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale illustreranno il piano di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, predisposto dall'Arma dei Carabinieri per la stagione estiva 2019. Ed è partito da Salerno il progetto Pesca Amica, promosso da Coldiretti per far conoscere la realtà della pesca locale, valorizzando il connubio tra Miglio Zero e Chilometro Zero. Uscire in barca per una giornata di pesca a largo, ascoltare le storie dei pescatori, mentre raccontano il loro mestiere e sistemano le reti, conoscere il mare, la cultura della pesca, rientrare al massuccio salernitano per degustare il pescato. È un'esperienza irrinunciabile, Pesca Amica è il progetto promosso da Coldiretti Salerno, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e la cooperativa Acquamarina per far conoscere la realtà della pesca locale, valorizzando il connubio tra Miglio Zero e Chilometro Zero. Tutto questo è pescaturismo, il modo più autentico per conoscere la cultura del mare e della pesca, che permette di salire a bordo di pescherecce e di imbarcazioni e di scoprire la costa e il pescato. E quanto ha sottolineato il direttore provinciale Coldiretti Enzo Tropiano, ieri pomeriggio nel corso di un tour dedicato ai giornalisti, per presentare il progetto che parte ufficialmente oggi. Effettivamente è un'idea che mancava. Quest'iniziativa di pescaturismo fatta effettivamente dai pescatori salernitani consente a tutti i consumatori di poter godere di questo mare, ma soprattutto di poter conoscere anche i pesci che abbiamo nel Golfo di Salerno. Questa è la prima serata di dieci che proseguiranno per tutta l'estate. Una volta alla settimana tutti i consumatori salernitani che si prenoteranno presso il Miglio Zero potranno fare un'uscita in mare direttamente con i pescatori. Questo ovviamente gratuitamente è un'iniziativa supportata dalla Camera di Commercio di Salerno e da Coldiretti e grazie alla cooperativa Acquamarina, che è questa bellissima cooperativa con questa bella esperienza del Miglio Zero che coniuga la conoscenza del mare con la conoscenza della terra e dei sapori, infatti questo ristorante consente di cucinare direttamente il pescato, consente ai consumatori anche di migliorare la loro conoscenza e di banalmente anche consentirli di riconoscere il pesce perché oggi i consumatori salernitani non conoscono il buon pescato salernitano, talvolta non conoscono nemmeno se il pesce è fresco o è decongelato, quindi grazie proprio alla voce dei pescatori potranno approfondire queste conoscenze e quindi supportare anche la loro attività. Per passare una giornata diversa, ideale per esperti o per chi il pesce lo conosce solo come pietanza, la cooperativa acquamarina di Salerno con la sua flotta per la piccola pesca mette a disposizione le proprie imbarcazioni per effettuare escursioni lungo tutto il litorale, tutti i giorni con partenza dal molo masuccio salernitano dalle ore 15 e rientro alle 19.30 con la possibilità anche di escursioni notturne, un'occasione preziosa poi per mangiare pesce freschissimo cucinato secondo le ricette della cucina salernitana. Questa è l'intenzione della nostra iniziativa della pescaturismo, far scoprire sia ai cittadini salernitani, soprattutto a loro, e anche ai cittadini che sono di fuori Salerno, far scoprire il vecchio mestiere del pescatore, vivere una giornata, una battuta di pesca reale come nella durezza del mestiere del pescatore. Questa è la nostra intenzione, far capire quando per prendere un chilo di pesce il lavoro fatto è il mestiere che è un mestiere molto pesante. L'ha fatto vedere due tipi di pesca diverso, uno delle reti a triglie, triglie grandi però, non triglie piccole, perché usano la maglia grande, e poi un altro tipo di pesca che si chiama in dialetto volo tunno. In italiana è una calata di rete che è sempre a giro, a giro per astringere il pesce, che sono le murmure. Questi sono i due tipi di pesca che hanno fatti i ragazzi. Poi ci sono altre barche che adesso stanno calando per prendere i mazzagogli, però quelle là vengono tirate questa notte. Taglio del nastro ieri sera a San Marco di Teggiano per l'aria apertura del campo da gioco Marco Fusco che il tempo e l'incuria avevano reso inutilizzabile e pericoloso. Grazie alla Fondazione Montepruno il campetto è stato restituito alla comunità. Vediamo. Da ieri sera i ragazzi della parrocchia di San Marco di Teggiano e non solo potranno soffrire di un nuovo spazio dove trascorre i loro pomeriggi e le loro serate con attività agonistiche e sportive utili a socializzare ma anche importanti per una sana crescita umana. Nel pomeriggio di ieri taglio del nastro del rinnovato campo da gioco Marco Fusco in memoria del giovanissimo tegianese deceduto prematuramente e che ieri sera ha visto anche l'ufficializzazione della sua intitolazione. Un campo da gioco che grazie al contributo fondamentale della Fondazione Montepruno presieduta da Michele Albanese in risposta all'appello lanciato da Don Vincenzo Gallo e da Paolo Dalvano ha subito importanti lavori di messa in sicurezza oltre che di ripristino delle funzionalità con l'installazione di panchine per seguire le partite e il recupero delle porte da gioco completamente danneggiate dal tempo e dall'incuria. È un grande piacere stasera partecipare a questo incontro soprattutto perché partecipo come presidente della Fondazione. La Fondazione Montepruno è stata costituita proprio per queste cose proprio per cercare di stare vicine a quei territori di cui hanno bisogno spesso arriviamo dove il pubblico non può arrivare lo facciamo con umiltà lo facciamo anche con la capacità di sapere individuare bene le esigenze e le necessità del territorio quindi quello di stasera è veramente un'iniziativa lodevole lo dobbiamo dire grazie anche a Dottor Paolo Dalvano che è un membro del Collegio Sindacale della stessa fondazione che fortemente ha voluto che questo contributo venisse devoluto per questa nobile iniziativa. Vedere dei giovani ritornare su questo campo e poter giocare avendo visto questo spazio solo un anno fa pieno di spine e oggi vederlo in queste condizioni beh, ti riempie di gioia è bello anche per questo. Felice e soddisfatto Don Vincenzo Gallo che ha voluto ringraziare il presidente albanese per aver consentito di restituire il luogo alla comunità di San Marco di Teggiano certo dell'importanza dei valori umani e sociali che sarà capace di trasmettere alle future generazioni. Com'è nato questo momento? Da una chiacchierata fortuita e provvidenziale e dal barbiere, da Cono dove si parlava più o meno delle esigenze che la comunità di fatto ha questo luogo che era diventato un po' si usufruito un po' dai ragazzi in modo un po' nascosto ma anche per noi come comunità anche un po' la paura della sicurezza quindi l'intervento necessario non era solo di tagliare un po' l'erba e una striscia a terra era la necessità di metterlo proprio in sicurezza da questa chiacchierata la Fondazione Montepruno si è offerta di aiutarci questo è bello lo sottolineo proprio come senso di famiglia che si è creato quasi a dire prendiamo a cuore questa situazione Presente alla cerimonia anche il sindaco Michele Di Candia che ha ringraziato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno per aver sempre dimostrato grande attenzione alla comunità tegianese e Don Vincenzo Gallo per l'impegno profuso a favore dei giovani Sono contento che la Montepruno oggi ha investito Michele Albanese è così sensibile che su questi aspetti partecipa sempre e la sua sensibilità poi ci porta a questi risultati oggi è un momento importante soprattutto per la frazione di San Marco per la chiesa noi come amministrazione comunale nel passato l'abbiamo tenuto in gestione poi a scadenza del comodo d'uso l'abbiamo restituito alla chiesa oggi si riapre di nuovo il campetto siamo contenti sono contento io in particolare di partecipare a questi eventi e speriamo bene che ne fanno buono e questa sera torna con una nuova puntata Angolo Cusati alle 20.30 alla termine del nostro Tg serale Pietro Cusati e i suoi ospiti parleranno della normativa europea e di accesso al credito ad analizzare il tema insieme al condottore saranno il direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca e il presidente dell'istituto di credito Pasquale Gentile l'attitudine delle banche di credito cooperativo a scopo mutualistico e di sostenere le economie locali spiegheranno gli ospiti per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio le BCC ne impiegano in media 92 di questi almeno il 95% diventa credito all'economia reale che ha sede e che opera in quello stesso territorio la BCC di Buonabitacolo la banca amica con i 40 anni di storia riacchiusi in uno slogan semplicemente, orgogliosamente, autonomamente dal primo aprile la banca di credito cooperativo di Buonabitacolo ha aderito al gruppo bancario cooperativo Icrea appuntamento dunque questa sera qui su Uno News adesso ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti poi ci ritroviamo tra poco Bentornati alla seconda parte del nostro Tg grande partecipazione e grande entusiasmo per la prima della guida di Repubblica che si è svolta ieri sera a Roma la prima guida dedicata interamente alla Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni è stata dunque presentata ufficialmente alla presenza del direttore delle guide di Repubblica Giuseppe Cerasa del presidente del parco Tommaso Pellegrino del direttivo del parco Cono Delia e Vincenzo Inverso Cristina Giovagnoli e del direttore romano Gregorio hanno partecipato inoltre rappresentanti del mondo della politica della società civile del giornalismo e dello spettacolo Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso ha detto Ceraso alla numerosa platea Abbiamo lavorato con entusiasmo e passione verso un territorio che amiamo particolarmente la guida più venduta in assoluto stiamo andando verso una ristampa dal momento che in pochi giorni sono state vendute il 70% delle copie resterà nell'edicole per tutta l'estate ed è possibile acquistarla anche in libreria e online La guida sarà presentata a Villa Matarazzo di Castellabate il 25 luglio alla presenza dei sindaci e dei produttori del territorio Un evento aperto al pubblico a cui potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino il progetto della guida e i suoi protagonisti Anche quest'anno Assanza ci si attiva per la pulizia del centro storico sabato 13 luglio prossimo volontari e ragazzi saranno in campo con scope e decespugliatori per restituire decoro al borgo Vediamo il servizio Giovani e volontari scendono nuovamente in campo a Assanza per restituire decoro al borgo antico sabato prossimo 13 luglio infatti l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito dopo i successi e la partecipazione ottenuta negli anni passati ha organizzato una nuova giornata di pulizia del centro storico e delle principali aree del paese con la finalità di poter presentare in questi giorni estivi il borgo in tutta la sua bellezza e suggestività da qui l'iniziativa che vede come principale promotore il vice sindaco Antonio Lettieri e che ha voluto intitolare la giornata del bene comune dotati di scope, ramazze, decespugliatori e tutto l'occorrente ragazzi e volontari sin dalle prime ore del mattino ripuliranno l'intero borgo partendo da piazza Plebiscito attraversando i tanti vicoli fino ad arrivare a piazza 24 Maggio giunge così alla terza edizione l'iniziativa che accanto ai volontari vede in campo anche legambiente campagna il referente Michele Bonomo che ha voluto lasciare un messaggio ai volontari che saranno impegnati nella giornata di pulizia il bene comune dichiara lo si realizza grazie all'impegno civico che i cittadini che amano la propria comunità profondono quotidianamente attraverso piccole ma efficaci azioni che rendono il proprio paese più bello e vivibile per tutti felice della partecipazione della disponibilità manifestata da tanti giovani in questi tre anni il vice sindaco Antonio Lettieri siamo orgogliosi di questi giovani commenta che ogni anno promuovono questa importante giornata di volontariato un esempio concreto della collaborazione che bisogna offrire ogni giorno per il bene comune un ringraziamento particolare da parte dell'amministrazione comunale dichiara ancora Lettieri va ai ragazzi della Proloco la consulta delle donne i volontari della protezione civile gli attivisti del gruppo politico Cambiamenti i rappresentanti del forum dei giovani i membri dell'associazione Onlus Sapienza e da tutti coloro che sabato impegneranno il loro tempo per la comunità e torna la rassegna di eventi estate a Monte San Giacomo tanti gli eventi proposti tra luglio e agosto si parte questa sera con la festa nella villa comunale per la vacanza del sorriso con estate a Monte San Giacomo e i mesi di luglio e agosto come di consueto saranno trascorsi tra cultura musica, natura, tradizione devozione e solidarietà la tradizionale rassegna di eventi estivi organizzata dal comune ogni anno per cittadini e ospiti di concerto con le tante associazioni la parrocchia e i comitati locali si parte questa sera con la festa solidale della vacanza del sorriso nella villa comunale Enrico 40 a partire dalle 18.30 organizzata dal comune in collaborazione con tutte le associazioni san giacomesi dal 10 al 14 luglio invece sarà la comunità evangelica locale ad animare la villa comunale con il concerto One Voice la proiezione del film La Croce e un torneo di calcio a 5 il 19 luglio invece tutta la comunità si riunirà nella parte alta del paese in via Galotti per la festa rionale in onore di Sant'Anna dopo i lavori di restauro della vecchia cappella il 21 tutti in località a Ballicelli ai piedi del Cervati Grotta Briganti e Cacio ripropone dopo il successo dell'anno scorso lo spettacolo Uno Dio Uno Re in replica poi l'11 agosto il 23 spazio all'arte con le stemporane organizzata dalla confraternita delle patane e cicce che coinvolgerà tutto il borgo l'associazione san giacomesi per i santi Giacomo e Anna invece propone per il 24 la proiezione di un film all'aperto e poi dal 25 al 28 tutta la comunità sarà in festa per le celebrazioni in onore dei patroni San Giacomo e Sant'Anna il 29 invece un evento sportivo presso il campo comunale Gaetano Romanelli un triangolare rievocativo della storia calcistica locale il 30 nella villa comunale Rico 40 una festa dedicata alle tradizioni locali al piatto tipico delle patane e cicce organizzato dall'omonima confraternita che nell'occasione premierà i presidenti della prologo il 31 ancora festa ma in località Ballicelli dove i residenti ed emigrati si riuniranno in un momento di aggregazione e amicizia condivisa il primo e il 2 agosto infine la prologo ad animare il borgo con l'evento il centro storico e le sue nazioni un viaggio di sapori senza confini un percorso gastronomico tra i vicoli i comuni di Pollica nel Cilento e Mid-and-Effland nei Paesi Bassi insieme nel nome di Città Slow per creare un gruppo di cooperazione territoriale europeo promuovere il concetto di Vita Slow è questo l'obiettivo che si propongono il comune cilentano di Pollica patria della dieta mediterranea e il comune di Mid-and-Effland che si trovano ai Paesi Bassi a una ventina di chilometri da Rotterdam le due realtà infatti si uniscono nel nome di Città Slow la rete internazionale delle città del buon vivere sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea le informazioni relative alla richiesta dei due comuni di creare un gruppo di cooperazione territoriale europeo chiamato proprio Città Slow si tratta di gruppi di cooperazione che sono stati creati nel 2006 dall'Unione Europea come strumento per favorire il lavoro comune transfrontaliero transnazionale e interregionale tra gli stati membri e le loro autorità regionali e locali consentendo a chi ne fa parte di portare avanti i progetti comuni condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale in Europa ne esistono già una settantina il gruppo di cooperazione territoriale europeo che unirà Pollica e Middend Elfland fino al 2030 all'obiettivo si legge in gazzetta di promuovere l'affermazione del modello di sviluppo racchiuso nel concetto di vita slow con il fine di produrre un maggiore sviluppo e una maggiore coesione economica e sociale tutto parte dunque dal modello città slow basato sulla qualità della vita l'ambiente il patrimonio storico artistico e culturale la salvaguardia della valorizzazione delle produzioni tipiche dei servizi ma anche le questioni delle identità delle città del rapporto con gli operatori e i cittadini dell'accoglienza e dell'ospitalità ora parliamo di musica si terrà sabato 6 luglio a Ostigliano frazione di Perito nel Cilento il Memorial Enzo Baratta una serata di musica ma anche di beneficenza vediamo una serata all'insegna della musica e della beneficenza è il Memorial Enzo Baratta che torna per l'ottavo anno consecutivo nell'antico borgo di Ostigliano frazione di Perito nel cuore del Cilento appuntamento sabato 6 luglio in piazza Silvio Baratta per il Memorial Enzo Baratta un evento che ormai sta diventando una tradizione consolidata nel territorio cilentano e un'importante occasione per fare beneficenza la serata è dedicata al batterista degli Ires rock band campana originaria di Eboli rivelazione negli anni 2000 ad un Sanremo giovani scomparso a soli 37 anni ed è organizzata anche a scopo benefico la manifestazione musicale sarà infatti un'occasione per raccogliere fondi a sostegno dell'AIRC l'associazione per la ricerca contro il cancro e per Save the Children ogni anno al Memorial accettano di partecipare gratuitamente numerosi cantanti e gruppi quest'anno ad esempio ci saranno le band cilentane dei Dolori del Giovane Walter e dei Luce ma anche Aristide Garofalo chitarrista rock e blues di Ogliastro Cilento la band dei Led Purple il cantautore cilentano Angelo Loia il cui repertorio spazia proprio dalla musica cilentana alle canzoni d'autore e tanti altri musicisti e non solo l'evento infatti giunto all'ottava edizione anno dopo anno ha allargato il palcoscenico oltre la musica dando spazio a poeti artisti emergenti e iniziative locali una serata di spettacolo a 360 gradi per ricordare un giovane batterista scomparso prematuramente e un momento per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro e per aiutare i bambini coinvolti in situazioni di emergenza causate da conflitti o catastrofi naturali ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro un'ottima serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti